si è abboccata la telegrafa le ultime due speriamo in qualche olografica bella per più un cavallo 3 e 4 qua non ci sta il fatto del colore hai visto come quelle altre? è una stampata diversa è una più vecchia rapida rire fiero spiro goldi nideron minuccia cuba pikachu mancher venonat è un altro cider non lo grafico 18 cider non lo grafico non lo grafico pokeball una bella ulo per chiudere pikachu rider pyro jigglypuff meo eh no vince no vince vince non lo grafico giusto non lo grafico che